Buona visione Salute Ezio, bentornato e ben fatto La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte Ho in mente un altro piano Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi Io posso compiere l'assassinio Esatto, agirai quasi indisturbato Speriamo che abbocchi Niente paura, abboccherà Di qua Avrà bevuto Finirà morto o imprigionato State qui Dietro di me Salve Salve Finirà morto o imprigionato Decirà morto o imprigionato Nasce La Ministro Combat non c'è il mio turno aspettate qua il mio segnale agli ordini con me grazie grazie rimanete in attesa qui sarà fatto andiamo Dio del cielo le migliori cure per il greggio di Dio salute restate ad aspettare qui facci sapere quando colpire grazie a tutti